Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 Allora, ho pensato a lungo se fare una recensione, alla fine ho optato per un sapevatelo perché credo che qui dare un voto sarebbe quantomai superfluo, per non dire inutile Quindi ci facciamo una chiacchierata molto più easy, molto più semplice per raccontare un po' quello che è la Master Collection Volume 1 e quelle che sono le mie riflessioni a riguardo Partirei con la lista dei titoli, almeno iniziamo a parlare di contenuti e poi facciamo delle riflessioni adeguate Il titolo propone Metal Gear e Metal Gear 2, i capostipidi della serie poi Metal Gear Solid, incluso le VR Missions e le Special Missions Metal Gear Solid 2 e 3, nelle versioni dell'HD Collection e poi Metal Gear in versione NES e Snake's Revenge Tenete presente che tutti i prodotti propongono anche versioni regionali, se disponibili, come download aggiuntivi In quello che è stato il periodo pre-lancio in cui ho testato il tutto, non erano disponibili questi download Ma appunto, tenete presente che ci sono Per il resto, poi ci sono dei contenuti extra, sotto forma di due graphic novel Quelle di Metal Gear Solid 1 e 2 E dei libri digitali, che comprendono le sceneggiature dei Metal Gear Solid E soprattutto i Master Book, che sono essenzialmente dei volumi Comprendenti una marea di informazioni su tutto quello che compone il mondo dei Metal Gear Solid Per quanto riguarda personaggi, situazioni, approfondimenti storici Insomma c'è veramente di tutto, ma ovviamente viene da sé Che sono cose che sono rivolte agli appassionatissimissimi Quelli che già conoscono tutto e vogliono semplicemente approfondire Non fate l'errore di leggerli qualora non abbiate mai giocato a Metal Gear Solid Perché vi spolinereste tutto Quindi, mi raccomando, mi raccomando A chiudere, c'è poi la colonna sonora che comprende i brani dei vari giochi E devo dire, è stato bello rivivere e risentirsi un po' il tutto Specialmente per chi come me appunto è super appassionato Peraltro, piccola postilla puramente personale Allora, io ho scoperto Metal Gear come serie con Metal Gear Solid Quando ero ragazzino e vivevo in Inghilterra Quindi per me Metal Gear Solid è inglese Io l'ho sempre giocato conseguentemente poi tutto in inglese Questa raccolta mi ha permesso di scoprire per la prima volta, lo confesso Metal Gear Solid 1 in italiano Che cosa mi ero perso, ragazzi Cioè, che cosa mi ero perso Lascio un piccolo estratto Per prima cosa, raggiungi l'ascensore sul retro E usalo per salire al piano terra Poi trova il direttore della DARPA Sei un pozzo di scienza Ma non sai quanto è buono il sapore di una sigaretta la mattina Ci credete che io non ho mai saputo dell'esistenza di questo doppiaggio in questo modo? Ecco, questa è una delle piccole cose che vi può far capire Quanto si può scoprire attraverso una raccolta come questa Ma, riflessioni sul doppiaggio a parte Volevo fare un po' di discorsi Allora, mi sono appuntato a un paio di spunti Questo è contenutisticamente un pacchetto straordinario Cioè, in attesa del volume 2 Che comprenderai i Metal Gear Solid più recenti C'è veramente di tutto In tutte le forme In tutti i modi Cioè, potete veramente andarvi a godere Ogni sfumatura di questa saga Dagli albori Però ci sono un paio di riflessioni Nel senso, non ho apprezzato la scelta di dividere i vari prodotti attraverso più eseguibili Nel senso, non c'è avvio Metal Gear Solid Master Collection volume 1 No, c'è l'eseguibile di Metal Gear Solid 1 L'eseguibile di Metal Gear Solid 2 L'eseguibile di Metal Gear Solid 3 Poi c'è l'eseguibile di Metal Gear e Metal Gear 2 E poi i bonus contents Che al loro interno Nascondono, tra le varie cose appunto bonus Il Metal Gear per NES e Snake's Revenge Cioè, io sono convinto che tanta gente non saprà mai della loro esistenza Non se ne accorgerà mai Perché magari non aprirà mai i bonus contents E di conseguenza non scoprirà mai che lì dentro ci sono due giochi Allora, non sarebbe stato meglio proporre un solo eseguibile Con una bella lista dei giochi presenti all'interno di questa Master Collection E renderli utilizzabili da lì? Cioè, a livello di presentazione avrei fatto le cose in media un po' diversa Rendendo tutto un po' più funzionale Questa scelta di frazionare il tutto non mi è piaciuta granché Ma al di là di questo C'è da sottolineare come ogni prodotto presente all'interno di questa raccolta Non abbia subito modifiche di sorta Non ci sono stati potenziamenti grafici Diciamo che a livello tecnico Non c'è nessuna vera ottimizzazione Se non quella derivante dai benefici che i nuovi hardware possono indirettamente garantire Ma considerando che in questi anni la tecnologia ha permesso Avrebbe permesso di fare qualcosina in più È un peccato Un'occasione un po' persa Tenete presente che per esempio nel primo Metal Gear Solid Tutto ciò che è possibile fare è semplicemente cambiare lo sfondo Considerata la presenza appunto dei quattro terzi Per giocare con uno sfondo diverso Ma non ci sono particolari opzioni per andare a lavorare magari sui filtri Se pensiamo alla Kawabanga Collection delle Tartaruga Ninja che ha fatto la stessa Konami Lì da questo punto di vista si poteva fare qualcosa in più Cosa che invece qui non avviene Per il resto ragazzi Devo dire che mi sarei aspettato forse qualcosina in più sul versante degli extra Per quanto i Masterbook siano una figata pazzesca Però per esempio Vi ricordate il Metal Gear Solid Database Che uscì prima di Metal Gear Solid 4 mi pare? Ecco quello sarebbe stato fighissimo rivederlo O vedere una cosa simile Che potesse comprendere tutti i giochi proposti in questa raccolta Quindi con possibilità di saltare da una voce all'altra Attraverso proprio se vi ricordate appunto Quest'app che c'era ai tempi di Metal Gear Solid 4 Sicuramente risuonerete con me in questa riflessione Però ecco diciamo che questa raccolta si rivolge O a chi si fosse perso i vari Metal Gear e Metal Gear Solid in passato O a chi volesse una raccolta che li potesse comprendere tutti Ma non è stato fatto alcun lavoro di reale svecchiamento Ottimizzazione, perfezionamento È un'operazione nostalgia fatta e finita Che vuole appunto colpire sulla nostalgia E non sul cavolo Già li possiedo ma li voglio avere perché quelli sono fatti meglio Purtroppo non è avvenuto Ed è un peccato che non sia avvenuto Perché sarebbe stata una bella occasione per dargli una rinfrescata Magari offrendolo sotto forma di, che ne so Gioca la versione originale oppure gioca di quella ottimizzata Non lo so, si potevano fare tante cosine Che nell'arco di questi anni abbiamo visto accadere in altri contesti Qui si è scelto di preservare Preservare che per certi versi è apprezzabile Per certi versi dici vabbè però potevi anche no? E invece purtroppo non è stata colta questa occasione Però ciò non toglie che sia un pacchetto contenutisticamente straordinario Che permette di vivere veramente sta serie da ogni possibile prospettiva E con ogni possibile sfumatura Di conseguenza gli appassionati sicuramente gradiranno Specialmente se gli dovesse mancare magari uno o l'altro Per me che sono un super fan della serie Da Metal Gear Solid in poi E che i vecchi Metal Gear me li sono persi all'epoca Chiaramente per una questione di età È stata una bella occasione per averli in un'unica soluzione Per quanto li avessi sparsi Però per dirvi ecco Snake's Revenge non l'avevo mai giocato E ho potuto farlo per la prima volta qua Per cui diciamo che c'è un po' per tutti Però dovete capire appunto Se è qualcosa che può fare a caso vostro oppure no Io l'ho provato su PS5 Quindi non ho da fare riflessioni in merito Chiunque lo avesse provato su altre versioni Su altre piattaforme Sarei felice se potesse condividere un po' le proprie impressioni qui sotto Per parlarci di com'è Io non ho riscontrato problemi Caricamenti assolutamente normalissimi Niente di particolare Cioè mi è sembrato veramente tutto preso Dalle versioni originali e riproposto Senza cambiamenti particolari da segnalarvi Ragazzi credo di avervi detto tutto Spero di avervi detto tutto Fatemi sapere cosa ne pensate E noi ci vediamo al prossimo Sapevatelo E noi ci vediamo al prossimo